Lanterna a tutti ragazzi, qui SlimeDark e oggi siamo tornati per l'ultima volta con la carriera con la Samp. Non farò infatti una quarta stagione, l'avevo accenato altre volte, ma noi siamo in finale di Europa League contro il Real Sociedad, un po' a sorpresa in realtà. Inoltre, sintomo di quanto sia stata lunga la carriera è anche il taglio dei capelli, perché verso i primi episodi della serie li avevo tagliati e è passato talmente tanto tempo da farmele ricrescere lunghi come prima e da tagliarle nuove. Andrò a fare la conferenza stampa e poi ce l'andremo a giocare. Ho impostato anche che la partita sia leggermente più lunga per vivere un po' meglio l'ambiente della finale di Europa League. Avevo già fatto vedere nello scorso episodio bene o male qual era la squadra del Real Sociedad, ma dopo la mia conferenza stampa ve li farò vedere di nuovo i loro giocatori. Tronfatti Coppa Italia, la possibilità di conquistare un secondo trofeo. Abbiamo degli standard elevati, mi piace. La dirigenza che mi lascia 77 come gradimento. Ragazzi, ho fatto una stagione della Madonna per la Samp. Va bene, ok. Secondi, vittoria Coppa Italia, siamo in finale di Europa League. Sta caricando. Allora, hanno Oriar Zabal, Guri, Yanuzai, Guevara, Serdar, Iaramendi, Mittelstadt, Ghido, Sali Isu, non c'è l'accento, però, Gorzabel e Serendero. Ce l'andiamo a giocare, ho messo 6 minuti. Giochiamo nello stadio del Borussia Dortmund. Molto bello, devo dire. E il cambio che ho fatto è stato mettere come capitano Eddie Nketia. Per questa finale voglio che sia lui e non Pichet. Andiamocela a giocare. Ed eccoci qui. Si scalda Serdar. Attorno a lui c'è l'aria che vibra. Non so se lo state vedendo per la qualità dello schermo. Eddie Capitano ci teneva a fargli giocare da capitano questa. È il giocatore, forse, tra i primi tre che ho preso. Un giocatore che ho fortemente voluto. Che bello lo stadio. Normalmente sarebbe un muro giallo. Questa volta i tifosi sono perfettamente divisi allo stadio. Cosa molto irrealistica, però si tralascia, si va avanti. E io non posso che... Guarda che bella la coppa. Comunque loro che hanno affrontato il Red Bull Lipsia, il Pesve di Eindhoven e poi il Napoli. Noi invece abbiamo affrontato, partendo dai sedicesimi, altre squadre. Come ad esempio i Villareal, il Lille, il Porto, il Chelsea. E infine i nostri avventari saranno loro. Molti dei loro sono con la faccia fatta bene. È una cosa che mi rende sempre perplesso. Non tutti sono fatti bene di faccia. I nostri non si vedono così tanto. Spero che non mi diano il copyright per l'inno della Europa League. Non me l'hanno fatto con quello della Champions. Chissà per... Me l'hanno fatto con l'inno del Portogallo, per dire. Però sono particolari. O con altri inni. Ragazzi, è partita. Sta partendo ed è partita. Che vinca la squadra migliore. Mamma mia, subito, eh. Subito spazzarla è impossibile. Attenzione, lancio lungo. Attenzione! Fresheren! Tira, Murato! Murato! Bravo, Udero! Prendila tu! Bravo! Attenzione, è di tira parata del portiere. Attenzione! Gol di testa! Zitto, zitto! Cacchio, cacchio! Romagnoli! Romagnoli! È il primo gol che fa con noi! Di testa! L'avevo data leggermente più lunga. È andata bene. Rivediamo un attimo. Colpo di testa vincente del nostro difensorone. è nazionale, aggiungerei. Bravo qua. Il difensore ha dormito un po'. Buono! Gol! Bravo Romagnoli. Il ventiseiesimo. È anche il primo gol pesantissimo in maglia Sampdoria. Attenzione! Il tiro, Murato! Ancora! Perfetto! Attenzione, ho sbagliato. Rosso! Qua mi darà rosso. Metal and nice. Pensavo di riuscire a prendere la palla e farlo da ultimo uomo. Questo è rosso. Rosso! Lo sapevo. Fatto una cagata. Però era gol praticamente sicuro. Va bene. Devo mettere a posto la squadra ora. Se no abbiamo un buco. Ok. Messo un minimo a posto. Vediamo se riesco a competire. Attenzione! Layout! Eddie! Ripigliala! Eddie! Eddie! Eddi! Ah! Attenzione! Scavetto! Bello! Fresheren! Goal! 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 Bello! La costruzione offensiva per una volta. Bravi! Fatemelo rivedere questo gol. Perché è così. Guarda. Guarda le au. Stuck. Poteva dare la raso terra ma forse ci arriva prima il difensore. Portiere completamente impallidito. Buono così. Ancione. Bella azione delle spagn... Eh sì. No. De la Sociedad. Goal. Me l'aspettavo. Stavo anche sbagliando il nome. Ci stanno cominciando un po' a schiacciare. Facciamo fatica. Più che altro. Per come costruivo il gioco. Metal Knight era fondamentale per spingere anche con Orsolini. Senza di lui sto facendo molta più fatica nello spingere in attacco. A parte che ho fatto gol. Però stiamo facendo molta fatica. Andre... Ander Guevara. Attenzione. Cosa ho fatto? Al volo! Oh! Ancora le au! È un altro asis per lui. Stagione formidabile! Bello Vieira! Che gol che ha fatto! Palo gol tra l'altro aggiungerei qua. Era incredibile. No. Come si è destreggiato. Normalmente questo lo fanno gli altri. Non noi. Ottimo. Scusami. No dai. Gli è passata attraverso la... Che brutto questo. Guardate un attimo la sua... Gli passa attraverso la spalla. E il braccio. No dai. Che brutto gol però. Gioco. Non così. Non così. Va bene. Un gol mi va bene sempre. Se cominciamo ad essere un bel po' stanchi. No. No. Bravissimo Ronaldo Vieira. Che intervento. Attenzione. Inserimento. Difesa bucata. Gol. 3-2. Devo fare un cambio assolutamente. Devo fare un cambio assolutamente. Di nuovo... No. Non è di nuovo Iaramendi. Forse ha segnato di nuovo Guevara. Deve essere... A doppietta di Guevara. È un piedino... Non chiodo nel piede. Bravissimo Murato. Bravo. Moses. Tieni la palla. Bravissimi Murato. Bravissimi tutti. Moses. Non ce ne sono in mezzo. Vabbè ho tirato. Porca puttana. C'hanno il novantesimo. Non avrei dovuto farlo. Comagnoli sto di fronte. No. Bravo Piqué. Bravo Piqué. Un minuto. Ragazzi 20 secondi. Calcio d'angolo. Provera. Per il razzo Zilad. Cazzo 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 cazzo. Deve uno... Stanno cambiando qualcosa. Iaramendi ed entra Sangalli. Ok. Ho paura. Ma cazzo... È finita praticamente. Via. No. Via. Spazzala. Spazzala. Abbiamo vinto. Oh oh. Sì con difficoltà perché avevo proprio un uomo in meno. Bravissimi. Viene Raffa e Sharon e Romagnoli di testa. Torna al successo e ad andare rilevante in Europa la Sampdoria. Alla fine pensavo mi potessero rimontare. Però ce l'abbiamo fatta. Ok. Si conclude la nostra carriera nei migliori dei modi. Ci sta per me non andare fino in fondo magari in Champions alla prima apparizione. Ma scendere in Europa. Però eravamo abbastanza forti. L'abbiamo dimostrato. Specie contro il Chelsea di essere la squadra migliore. Real Sociedad è un po'... Un po'... Un po' a sorpresa. Però riusciamo a vincere. Sono contento. E Eddie capitano. Alza sta coppa. Dai. Alzala. Eeeh. Ci tenevo a tenere lui capitano. Ci tenevo per davvero. Uno dei primi acquisti. Preso un po' solo per... Perché non lo usavo. L'avevo già spiegato perché l'avevo preso. Però sono contento. La nostra carriera non poteva finire nel migliore dei modi. Una Sampdoria che torna estremamente rilevante. L'ho già ripetuto. Vai dai tifosi. Nello stadio comunque molto bello. Quello del Borussia Dortmund. E' estremamente bello. La marea gialla normalmente qua. E' una marea blu. Più il colore della marea tra l'altro. E tra l'altro essendo città di Genova. Città Ligure. Città che appunto è sul mare. Andare verso la marea blu. Che in questo caso ci sta no? La marea blu. Anziché gialla. Nello stadio del Borussia Dortmund. Sono molto contento. Ma qui l'artificio. Abbiamo vinto. L'Europa League. Sarebbe stato bello anche giocarsi la... La Supercoppa Europea. Contro non so chi. Sinceramente. Però possiamo andare un attimo avanti. E vedere chi ha vinto la Champions. Ragazzi. Estremamente bella questa partita. Mi sono veramente divertito. Le finali hanno un clima diverso. Rispetto alle normali partite. Qua bravissimo Romagnoli. Che impatta di orecchio. Sampdoria comunque che si è dimostrata superiore. Ce la siamo giocata alla pari. Ho dovuto. E' quasi brutto da dire. Però ho dovuto fare quel fallo. Altrimenti era un gol certo. Quando Metzlena è stato espulso. Andiamo a fare l'intervista post partita. Poi. Statistiche della stagione che abbiamo appena finito. Campioni dell'Europa League. Allora. In Champions League giocherà Bayern Monaco contro Manchester City. Bayern Monaco che non siamo mai riusciti a battere. E Manchester City che se non sbaglio aveva vinto già l'anno scorso. E il Bayern Monaco vince la Champions League. Riescono a tornare a vincere. E quindi noi siamo stati nel girone con loro. Non ci hanno mai battuto. Ma noi abbiamo sempre pareggiato. Quindi la finale di Supercoppa Europea sarebbe stata contro di loro. Sarebbe stato molto interessante. Mi dispiace un po' non farvela vedere. Andiamo a vedere però la stagione dei nostri giocatori. Che dite? Allora. Innanzitutto guardiamo quella della Serie A. Guardiamo un po' i nostri ragazzi come si sono messi. Abbiamo Capocannoniere Mabil del Cagliari in 37 partite e 22 gol. Mannugnes in 26-21. Leao 12 in 21 partite. In Chietiao 11 in 22. Allora. Guardiamo un attimo le statistiche dei nostri giocatori. Audero. Presenze 58. Reti inviolate solo 11. Ma questa è colpa mia che difende un po' male. Bianchi è in prestito. Linzai non ha mai giocato però è molto promettente. Pedretta 31 presenze, 2 assist e 6 reti inviolate. Sepinaccia in prestito che sta salendo molto. Solo in questa stagione è salito di più 5. Murru 24 presenze, 1 assist e 5 reti inviolate. Pichet solo 6 reti inviolate in 31 presenze. Ma è calato molto e si ritirerà a fine stagione. Romagnoli un gol pesantissimo in 36 presenze, 1 assist e 6 reti inviolate. Cistana 21 presenze, 1 gol, 1 assist e 4 reti inviolate. Messina non ha mai giocato. L'avevo puntato in panchina solo una volta. D'Ambrosio penso andrà via a 0. Guardiol 32 presenze, nessun gol, nessun assist ma 5 reti inviolate. Per me comunque ha fatto molto bene nonostante tutto. Esposita in prestito tornerà con Quadrado che si ritirerà. No, Quadrado che passerà al Wolverhampton a fine stagione. 26 presenze, 2 assist e 4 reti inviolate. Abate solo 2 presenze, era molto scontento. Penso potrà andare via anche in prestito. Maitland Niles uno dei migliori di questa stagione. Zitto zitto ma bisogna dirlo. 28 presenze totali, 7 reti inviolate. Norman ha fatto molto bene, Mattias. 41 presenze, 3 gol, 7 assist, 3 reti inviolate. Ndiaye, 16 presenze ma è un giovane cresciuto di più 4. Aveva appena 17 anni. Ha fatto anche bene. Un gol, 2 assist e 2 reti inviolate. Vieira, 33 partite, 5 gol, 5 assist e 5 reti inviolate. Guidi è andato in prestito a Basak Shehir. Sta crescendo molto però perché starà giocando parecchie adesso. Di Francesco, 29 presenze, 6 gol, 10 assist e 5 reti inviolate. Vabbè, per gli attaccanti le reti inviolate contano meno. Damsgaard, 37 presenze, 7 gol, 12 assist. È un po' sceso. Maggiore, 11 presenze, 3 gol e 1 assist. Murgia, 15 presenze, 8 gol, 5 assist. Molto prolifico Murgia, molto forte. Buonaventura, 15 presenze, 6 gol e 5 assist. Castrovilli, 28 presenze, 7 gol, 8 assist. Anche lui dalla panchina faceva bene. Iari, finalmente è diventato il trequartista, quello che volete. Centro rampista offensivo, come avrei voluto. 35 presenze, 16 gol, 17 assist totali. In Serie A, non molto bene. In Europa League, in Champions, ha alzato il livello. Anche in Coppa Italia non ha fatto male perché lì ha fatto 5 assist. Martini è in prestito ed è salito molto questa stagione. Moses è un po' calato di rendimento rispetto alla scorsa, però 41 presenze, 4 gol, 6 assist. De Paoli è in prestito, tornerà e penso che Moses perderà il posto per De Paoli. Preferisco cederlo e tenere comunque uno un po' più giovane, anche italiano. In questo caso perché è in prestito secco. Orsolini, ecco che Orsolini l'avevo criticato tanto, ma in fine stagione in Europa League ha decisamente alzato il ritmo. Comunque ha fatto 5 gol e 5 assist in Europa League. 36 presenze, 8 gol, 8 assist. Esposito, questo Davide Esposito è molto forte, è in prestito ed è già salito di più 3. Pier Testa è cresciuto di 7 in questa stagione al Tuente. Sì, al Tuente. Non so però come stia facendo, Ancran non ha mai giocato, penso lo manderò in prestito. El Masri, 14 presenze, 1 gol e 2 assist, ma direi che tra i giovani è uno di quelli che ha fatto meglio nella squadra. Darwin Nunez. Allora, è l'uomo che in campionato è più responsabile della posizione in cui eravamo perché permetteva di far riposare tanto, tanti giocatori. Appunto, comunque, 21 in campionato, in Serie A. 21 gol, 7 assist in 26 partite, totali 23 e 9, perché in Europa League non ha fatto male. Flavio Conte non sta mai giocando, penso che lo cederò. Arriviamo al piatto forte. Piatto forte sono gli attaccanti. Cavani, totali, non ha giocato tantissimo. in Europa League addirittura solo una volta l'ho fatto entrare. Mi spiace un po'. Però, totale, 13 presenze, 6 gol, 4 assist. Si ritira a fine carriera, però vincendo due trofei. Direi che ha fatto una buona stagione, massima spesa per me e massimo guadagno per lui in tutti i sensi. Raspadori, utilizzato un po' poco, ma capita. Raspadori che tra l'altro anche nella vita reale è stato da poco capitano, sono contento per lui. 9 presenze, 1 gol, 4 assist. Ci sta. Eddie Nketia. Allora, Eddie è assolutamente l'uomo europea, nelle coppe europee ha fatto molto bene. Totale in 41 presenze, 24 gol, 22 assist. Molto equilibrato, anche perché se le gestiva con Leao. A livello statistico Leao è un mostro, però analizziamo un attimo. N'Europa League ha fatto 7 gol, quasi capo cannoniere, 4 assist. In Serie A ha superato la doffia a Cipri in entrambi. E non posso che essere felice. E sono stato contento di tenerlo capitano nella finale di Coppa Europea. Raffaele Leao, un mostro, perché in Coppa Italia in 5 partite, 9 gol, 3 assist. Champions League in 6 partite, 9 gol, 5 assist. Europa League 5 gol in 8 presenze e 8 assist. Totale 41 gol e 28 assist. Candidato a pallone d'oro, in teoria potrebbe essere. Perché no? Molto facile fare gli assist con quelli davanti in realtà, perché in due se la passano spesso. Detto questo ragazzi, io non posso che essere contento per come è finita la stagione. Peccato per mettere le nice che non l'ha giocata all'ultima partita. Vinciamo. Io vi ringrazio di aver seguito. È stata una bellissima esperienza provare qualcosa di nuovo. È finita molto bene, devo dire. Anche a livello di capacità di gioco sono migliorato abbastanza. Vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo in un prossimo video. E chissà che un giorno la carriera allenatore possa tornare ancora sul mio canale. Un salutone, alla prossima. Ciao ciao. 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 Ciao.